Oh! 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 Cazzo, po! Che è? Vai stror! Vai, vai! Come a friare! ... Qui va? ... ... ho fatto la parola allora ecco ah è un'accello è un'accello ma non è il cielo oh, sta a fare bene su una uova ah come? ah ah, anatra la trovi nell'ottagno adora fare il bagno e' un'accello come? ah come? ah ah, anatra la trovi cagnolino 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 il quadrato è di colore verde e' un'accello il triangolo è di colore blu è un bel camara è un bel camara e' un bel camara e' un cagnolino un respensierato mentre gioca in mezzo al prato e' un cagnolo e' un bel camara e' un bel camara uno due tre quattro cin sei sette ote e' un Faccio dappi un'aria con le stupose Ma come è? Ti chiedi spero e basta Ma chi fa spero e basta? Ma Chi fa spero e basta? Ma come è? Allora perché non c'è la cazzo? Io io ti chiedi spero e basta E se cazzo è il suo e qua E cantate cazzo Ma come è? Ma come è? Ma ammazza da rispare e basta Gesù grido Alla prossima video Che è? E ma ammazza da rispare e basta A presto La buona e la buona Ma ammazza da rispare e basta